Buona giornata per ritrovati con 7 in punto, una nuova puntata in trasferta, in esterna perlomeno a Gorizia, una tornata elettorale quella dell'11 giugno che vede il capoluogo Isontino come uno dei quattro capoluoghi in provincia importanti del nord-est ad andare al voto. Ci sono 9 nomi in lizza per il dopo Ettore Romoli, che ha governato la città per le ultime due tornate elettorali, quindi per gli ultimi 10 anni, è stato definito il quadro dei candidati, molto nutrito, si è arricchito nelle ultime settimane, si è elevato a 9, dovevano essere anzi 10 candidati perché c'era anche Renato Fiorelli che invece è stato escluso per aver ritardato la presentazione della lista. In tutto ci sono 20 liste per 664 candidati in Consiglio Comunale, ma ci saranno soltanto 40 posti disponibili, quindi una scelta effettiva da fare. 6 candidati su 9, e sono i primi 6 che andiamo a conoscere, si presentano all'appuntamento con le urne sostenuti da una sola lista di riferimento. Si tratta nel dettaglio delle liste Articolo 3 per Ilaria Cecotto, Forum per Gorizia per Andrea Picco, Sinistra Unita per Roberto Crescitiello, che comunque avrà, come sentirete, più partiti dalla sinistra confluiti in questa Sinistra Unita, poi c'è Gorizia, c'è per Silvano Gaggioli, Movimento Popolare degli Italiani per Franco Bertin e Movimento 5 Stelle per Giancarlo Maraz. Cominciamo dunque da Loro 6 e nella fattispecie da Ilaria Cecotto. La Ria Cecotto, articolo 3, si presenta appunto a queste elezioni, innanzitutto con critica all'attuale giunta, all'attuale amministrazione? Beh, all'attuale giunta avrei più di qualcosa da imputare, sicuramente l'immobilismo, c'è l'incapacità di saper cogliere le sfide della modernità e soprattutto della complessità di questo territorio, un territorio di confine. Purtroppo le amministrazioni passate di centro-destra non hanno saputo cogliere l'opportunità data dalla caduta del confine e nella complessità che questo avrebbe generato. E parlo soprattutto del fenomeno, insomma, immigrazione che ci coinvolge, essendo sede di una commissione territoriale per i richiedenti asilo politico. Purtroppo negli anni passati, in cui ero assessore al lavoro e al welfare di questa provincia, ho visto violati più di qualche volta i diritti umani e questo per me è stato motivo di azione politica e di grossa determinazione e di passione nel vivere la politica come un impegno civile ed umano. Ma tornando alla nostra città, a Gorizia, tutti dicono che necessita di un cambiamento e quel cambiamento può essere dato soltanto dalla discontinuità, quindi con una candidatura, con un sindaco più giovane, io sono la più giovane dei candidati e l'unica donna, che abbia voglia di fare, coraggio, dinamismo e sappia veramente cogliere la complessità e l'opportunità di questa nostra bellissima terra. Quali altri punti programmatici? Allora, la nostra lista si chiama articolo tra Gorizia Sociale non a caso e il mio impegno, prioritario, sarà quello di riscrivere il piano del welfare. Ovviamente con le rigidità imposte dallo Stato e della Regione a livello normativo, ma purtroppo abbiamo sempre assistito a un'impostazione a livello di welfare, secondo me, non votata ad eliminare le differenze. Io non so più se sono di destra o di sinistra, devo dire la verità, sono tradizionalmente, storicamente una donna di sinistra, ma mi hanno un pochino stancato tutti, perché una frase che cito spesso ultimamente è una frase del Presidente Partini, che quando l'ingiustizia diventa legge la resistenza diventa un dovere. E purtroppo in questi anni, io ho visto tante volte, a livello soprattutto di sociale, violare la dignità delle persone. E questo per me è intollerabile e lavorerò ogni giorno perché questo possa ovviamente diventare un elemento residuale della politica di questa amministrazione. 30 secondi per uno slogan che in parte ha già anticipato. L'unico slogan che mi sento di dare e di dire è di andare tutti quanti a rileggere l'articolo 3 della Costituzione italiana. L'articolo forse più ampio, forse più generale, ma io ritengo il più totale, il più totalizzante, il più significativo. Non è né di destra né di sinistra. E' semplicemente il richiamo all'ugualianza. Dobbiamo essere tutti uguali nelle condizioni di partenza e poi ciascuno camminerà con le proprie capacità personali e umane. Andrà Pico a fare un pergorizia. Con che aspettative di cambiamento pergorizia? Sono stati dieci anni veramente di grigiore, in cui non si è affrontato nessuno degli argomenti importanti per la città. Adesso l'occasione è grandissima. In città si respira un'aria di grande desiderio di cambiamento. Vogliamo una città unica, una città accogliente, una città che investe nella cultura, nel territorio. Una città che crede di essere importante nello scenario anche europeo per la sua posizione particolare. Una proposta critica rispetto a quanto fatto in precedenza, ci diceva, basata su cosa? Basata sul fatto che, per esempio, prendiamo il tema più grosso, il tema dei profughi, dei richiedenti asilo. L'amministrazione ha scelto di non gestire il problema demandandolo al volontariato e alla prefettura. In realtà questa che è ormai una realtà quotidiana per la città è stata affrontata in maniera ridicola, dal ridicolo al vergognoso. Scegliete voi. Altri punti programmatici nel vostro programma? Allora, noi vogliamo che la città riparta dalla cultura, dalla sua urbanistica organizzata in maniera diversa. Qui si è votato un indirizzo politico a novembre, votato da centrodestra, centrosinistra, uniti, per una città a misura di individuo consumatore, puntando sui centri commerciali e sull'idea che il tempo libero delle persone sia un tempo di spesa. Invece noi puntiamo molto sulle relazioni, sull'idea di riformare una comunità. Bisogna partire da questo, innanzitutto. Si è perso tutto il tessuto cittadino fatto di incontro, fatto di relazioni umane. E questo è da qui che bisogna ripartire. Come? Con un'idea diversa, per esempio, sull'urbanistica. Non possiamo pensare che la città sia un insieme di case e di strade fatto perché ci siano le automobili che le percorrono. Dobbiamo pensare che la città è invece un luogo di incontro. Questo innanzitutto. Poi è una città che è al centro di uno snodo particolarissimo. Abbiamo Ljubljana a un'ora di strada e Venezia a un'ora di strada. Siamo la porta, come disse il Papa quando venne 25 anni fa, disse che era la porta dell'Europa. E l'incontro di due culture, la cultura slava e la cultura latina. Ecco, 25 anni dopo siamo ancora lì. Non è stato fatto niente perché questo incontro avvenisse. Allora, più rapporto con Nova Gorizza, una città unica. Non possiamo più pensare che la città finisca a Casa Rossa dove c'è il confine. La città va oltre ed è una grande città e ha delle potenzialità enormi sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista culturale. Dobbiamo credere nelle nostre peculiarità, credere che la città è una città importante nello scacchiere europeo. Roberto Cicitello, sinistra unita, una sinistra critica contro l'attuale maggioranza qui a Gorizia? Assolutamente sì. Le difficoltà che vivono le persone a Gorizia sono sotto gli occhi di tutti. Tutti le conoscono. Credo che ormai si possa dire tranquillamente che c'è un clima di critica e di ricerca di un cambiamento rispetto all'amministrazione attuale che si è impegnata su molti temi, qua siamo nella zona pedonale riqualificata, i temi su cui si è spesa di più l'amministrazione attuale ma sicuramente sulle problematiche del lavoro, delle difficoltà delle persone, del sociale secondo noi anche ma sicuramente le tematiche che riguardano il decentramento, i quartieri, le zone più periferiche non ha fatto niente sostanzialmente. Un gioco di parole su sinistra unita. Il centro-sinistra non è così unito ed è questo anche un altro punto per cui chiedere il voto a voi? Noi crediamo che con alcune parti del centro-sinistra, cioè che non sia riproponibile il centro-sinistra come è stato storicamente negli ultimi vent'anni il partito democratico in particolare è stato su un fronte opposto rispetto a noi per quanto riguarda la riforma della Costituzione noi ritenevamo assolutamente che non dovesse essere cambiata quella ma che ci fossero tutt'altri problemi da affrontare per esempio il lavoro e questioni sociali, quelle che ho detto prima insomma sostanzialmente per cui certamente per noi sinistra unita non significa centro-sinistra unito ma sinistra vera. Quanto peso avranno la questione dei migranti nelle prossime elezioni? Io vedo tante persone che tentano di polemizzare su questa cosa però credo che molti goriziani si siano resi conto che alla fine non è che il migrante pesa sulla pensione o sulla busta paga delle persone insomma in realtà è una questione da governare, cioè il problema fondamentale secondo me è che l'amministrazione attuale semplicemente non l'ha governato con queste persone che vagavano un po' da tutte le parti e che avevano dei bisogni di vario genere e che andavano a scapito dei cittadini poi alla fine. In 30 secondi perché votare Roberto Ciscietiello e scegliere Sinistra Unita? Perché noi siamo coerenti da sempre con quello che abbiamo sempre sostenuto, la Sinistra Unita poi ricostruita, io sono un rappresentante di Rifondazione Comunista e insieme con noi ci sono il Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista e vari soggetti e persone che si riconoscono nel nostro programma. Io un motivo per votare per noi direi che potrebbe essere se si andasse a leggere i programmi e si vedesse la concretezza e le proposte che noi abbiamo presentato per governare questa città. Si fanno ragioni, lista Gorizia c'è? Lista per il cambiamento di Gorizia? Sicuramente per il cambiamento di Gorizia, è una lista nettamente civica, abbiamo chiamato praticamente a raccolta un po' tutte le forze politiche, inizialmente volevamo che centrodestra e centrosinistra si riunissero per fare solo ed esclusivamente gli interessi di Gorizia che in questi ultimi anni onestamente non sono stati fatti, Gorizia è rimasta inerte per dieci anni, il sindaco uscente ha fatto delle belle strade, ha fatto delle belle vie, ma nulla di più, sono mancati i rapporti con le associazioni sportive, con le associazioni, le onlus, tutta l'attività di coordinamento, col volontariato è completamente mancato, manca il rapporto con i giovani, alcuni giovani sono persino giunti a dire a Gorizia è scomparsa persino la noia e quindi tutti i giovani se ne stanno andando da Gorizia. Noi cerchiamo di ridare dignità a questa città e vorremmo farlo attraverso lo strumento del GEC, che sono fondi europei che devono essere, che già sono stati finanziati per dieci milioni di euro, che però progettualmente assieme alla città di Nova Gorizia e St. Peter Vertoiba potremmo ripetere e quindi potremmo sicuramente creare un'unica città e non parleremo più di Gorizia come città di 35 mila abitanti, ma di una città di 72 mila abitanti. Questo potrebbe darci anche la forza e più peso in regione. Altri punti programmatici? I punti programmatici sono sicuramente il turismo, perché noi comunque questa città qua, che tutti dicono bisogna venire a Gorizia per vederla, ha intorno a sé una realtà unica. Se noi riusciamo, anche attraverso il sistema delle UTI, che è una brutta legge, devo dire, ma possiamo farla funzionare in qualche modo, potremmo coinvolgere tutto il Collio italiano, il Collio sloveno a Börda, il Carso, collegarci con la Valle dell'Isonz e la Valle dell'Ipaco, creando quindi nel giro di 50 chilometri un unicum dal punto di vista turistico. Abbiamo la cultura, abbiamo il Carso, che è veramente un unicum dal punto di vista naturalistico, abbiamo il Collio, che è una piccola toscana, abbiamo la Valle dell'Ipaco e la Valle dell'Isonz, che sono delle realtà meravigliose, e quindi Gorizia potrebbe essere il punto da cui poi diramare tutte queste persone che vogliono vedere queste realtà meravigliose che ci sono intorno a noi, poi compresa Aquilaia e Cividale. Ah, 15 secondi per uno slogan, perché votare per Silvano Ragione? Ma perché votare per Silvano Gaggioli? Perché diamo la città ai goriziani, lasciamo perdere i partiti, i partiti in questi ultimi anni, sia il centrodestra che il centrosinistra, non hanno fatto nulla per Gorizia. Forse è ora che i goriziani si muovono autonomamente. Franco Bertin, la sua lista civica, come si presenta rispetto all'attuale amministrazione? Molto critica? Diciamo in alternativa al centrosinistra e alla coalizione del centrobastra, come lista civica e movimento che vorrebbe raccogliere il pensiero, le idee e i programmi dalla destra ai moderati. Abbiamo questi forti ideali nazionalistici di tutela, soprattutto dell'italiano che viene per ultimo a questo punto, perché il territorio, anche il nostro, è ormai invaso da una marea di immigrati che cercano accoglienza a casa nostra, anche a Gorizia, ma dei quali non si sa assolutamente niente. Non si sa se sono militari, se sono degli approfittatori del sistema Italia. Allora, c'è questa mancanza di sicurezza del territorio perché questi qua non si sa che personalità, se sono dei talebani, dei militari, mi risulta che Al-Qaradi gradisca 100 su 400 ospiti fino a poco tempo fa si addestravano in arti marziali da paura. Per cui, voglio dire, il nostro programma è soprattutto sanità, welfare ed sicurezza del territorio in tema di immigrati, ad esempio, uno dei quali non avevamo assolutamente bisogno. Welfare perché crediamo che nel momento del disagio un goriziano non debba essere costretto ad andare a dormire presso un dormitorio in commistione, in coabitazione con culture diverse, con questi immigrati. Non è che sia previsto un edificio con 6-7 alloggi previsto esclusivamente per italiani, non che abbiano anche patologie da CSM, perché mi risulta che all'arcobaleno c'è qualcuno che invece senza nessun problema di psiche era lì ospite con persone che purtroppo hanno questo problema. Insomma, bisogna essere anche un po' sicuri e tranquilli quando si va a dormire con delle strutture dove uno può anche non sentirsi a casa propria e neanche sicuro. A 15 secondi per uno slogan, quindi perché votare per Franco Bertini? Potremmo votare perché noi persone semplici, i quali non hanno né padroni, diciamo neanche padrini, non hanno nessun sponsor politico neanche a livello locale, però con delle idee proprie, idee vicine al goriziano e all'italiano in disgrazia, che può essere anche il separato, il divorziato, quello che ha perso il lavoro, il quarantenne, il cinquantenne, quello che neanche riesce ad avere lavoro sotto forma di lavori socialmente utili, perché sembrerebbe che una certa politica ipocrita di sinistra pensi piuttosto di impegnare gli immigrati in lavori socialmente utili anche sotto forma gratuita. Noi vorremmo piuttosto che questi lavori socialmente utili minimo si dia ai nostri, in modo da avere almeno 300-400 euro al mese, almeno a titolo di sopravvivenza, il che si sa che non basta comunque. Giancarlo Marazzo, momento 5 stelle, si presenta qui a Gorizia, con che aspettative di cambiamento per la città? Noi abbiamo un programma completamente innovativo e integrativo per la città, vogliamo rinnovarla nel suo spirito, vogliamo riportarla ai fasti di un tempo, quindi abbiamo un piano per riveterizzare il commercio, in attesa della zona economica speciale di cui tutti quanti si riempiono la bocca di parole, noi abbiamo intenzione di creare quanto prima una zona di amministrazione speciale, cioè che riguardi semplicemente nei territori di Gorizia e nella vicina Nuova Gorizia, Schampeter e Vertoiba, una armonizzazione del sistema fiscale e contributivo del lavoro, in modo tale che questo procedimento abbia semplicemente un avallo dell'Unione europea, mentre la più complessa zona economica speciale di cui noi siamo comunque a favore ha bisogno anche di finanziamenti europei e quindi necessita di un progetto molto più lungo, ad ampio spettro e ad ampio termine, mentre la città ha bisogno di una scossa immediata. Avete critiche particolari all'amministrazione precedente? Abbiamo solo critiche per l'amministrazione precedente. La situazione urbanistica della città è rimasta quella del 2004, non c'è un nuovo piano urbanistico, non ci sono le piste ciclabili, hanno parlato di città per il turismo, città per gli studenti universitari, la città per gli studenti universitari non esiste perché gli studenti hanno anche voglia di vivere gli anni migliori della loro vita, non solo di studiare e questa città ha l'ordinanza anti schiamazzi per cui bisogna andare a dormire alle 9 di sera, se di fatti qualcuno di fuori città passa di qui dopo le 9-10 di sera sembra di essere una città dove c'è il coprifuoco, quindi questo non funziona. Parlano di turismo, non hanno mai risanato l'isonzo, l'isonzo potrebbe essere collegato alle piste ciclabili del nord Europa, potrebbe essere una via dai monti al mare e potrebbe essere una zona di sviluppo turistico creando delle zone con termini anche di sviluppo urbanistico integrate nell'ambiente in maniera ecologica e non come si è fatto negli anni. In 30 secondi uno slogan, perché votare per il Movimento 5 Stelle e per Marazzo? Votare il Movimento 5 Stelle, votare per me, perché noi siamo onesti, abbiamo fatto dell'onestà il nostro marchio, noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo queste mani che devono essere pulite, devono restare pulite, ci mettiamo tutta la voglia e lo spirito di cambiare, ci dicono che noi siamo sproveduti, siamo dei dilettanti, se guardiamo cosa hanno fatto in questa città, cosa hanno fatto in questa regione, cosa hanno fatto in Italia i politici di professione, noi siamo contenti di rimanere dei dilettanti, ma dei dilettanti che hanno tanta voglia, che si applicano, che hanno fatto vedere dove governano con il simbolo del Movimento, hanno fatto vedere che sono capaci di fare, che hanno voglia di fare e dove si vede a Livorno, si vede a Torino e si vede anche a Roma che sta iniziando a cambiare, come quando entra il Movimento 5 Stelle, come la città cambia, come la vita dei cittadini cambia, perché noi siamo delle persone rispettabili. Nuovamente benvenuti con Sette in Punto, seconda parte in questa puntata esterna da Gorizia, stiamo percorrendo la conoscenza dei candidati alle prossime elezioni, ma c'è da dire che l'11 giugno non si voterà soltanto a Gorizia Capoluogo, ma anche a Cormons, a Sagrado e a San Canziano di Sonzo, a Corbons si sfidano Lucia Toros, Simone Bressan e Roberto Feicaro, a Sagrado Barbara Preazzi, Marco Vittori e Annabella Birri, infine Corsa 5 a San Canziano dove Ciro De Simone, Enzo Sorrentino, Renato Basile, Claudio Fratto, Roberto Rossi e Rossana Puntin si affronteranno dunque in questa tornata elettorale. Ma torniamo, come detto, a Gorizia Capoluogo che è il punto focale di questa nostra puntata odierna ci mancano da sentire tre candidati, ovvero Ziberda, Collini e Portelli, che possono invece contare sulle rispettive coalizioni composte rispettivamente da 8, 4 e 2 liste. A sostegno del candidato azzurro si schierano Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile, Pensionati, Popolo di Gorizia, Aiutiamo Gorizia e Udc. A sostegno di Roberto Collini, un ex giornalista RAI, troviamo invece percorsi goriziani, il Partito Democratico, naturalmente Gorizia è tua e Gorizia Cento Sogni. Infine, accanto a Federico Portelli, le liste Gorizia e Borghi. Riprendiamo dunque da Rodolfo Ziberna. Rodolfo Ziberna, appoggiato da otto liste, si può dire dal centrodestra praticamente al completo? Certamente non si può dire, noi lo diciamo. Noi abbiamo tutto il centrodestra, perciò da Forza Italia, la Lega Nord, Fratelli d'Italia, tutto il centrodestra, solido, in più abbiamo altre tre liste civiche. E quello che ci caratterizza è proprio questo, che tutto il centrodestra, per capirci quello che ha vinto a Monfalcone, che ha vinto a Portinone, a Codroipo, che ha vinto a Trieste, questo centrodestra tutto compatto, coeso, forte, intorno alla mia candidatura. Con un programma che è stato condiviso dal primo passo, scritto con le mani di tutti, condiviso dal primo momento. Dall'altra parte invece assisto ad una esplosione, ad una polverizzazione della sinistra che si presenta addirittura con sette candidati sindaci, tra l'altro in lite tra loro e un pessimo biglietto da visita. Noi intendiamo governare con il solco, sul solco della giunta Romoli. A nostro avviso il sindaco Romoli, ad avviso dei cittadini, è stato un grande sindaco, un sindaco che è riuscito a far sì che Gorizia fosse la città in cui si pagano meno tasse e tributi municipali in tutta Italia. E' il comune che ha maggiormente riqualificato il proprio territorio, un comune che nonostante questo si è distinto per tutta una serie di grandi investimenti. Noi intendiamo proseguire su questo solco, naturalmente andando oltre la giunta Romoli, intendiamo investire tanto, tantissimo, su quello che per noi è in assoluto la priorità tra le priorità, cioè creare nuovi posti di lavoro. E si potranno creare all'aeroporto Duca d'Aosta di Via Trieste, piuttosto che grazie all'università, che è un altro punto, un nostro pallino, creare un'università europea in lingua inglese per studenti provenienti non soltanto dall'Italia ma da tutta Europa. Questi sono i nostri punti chiave. Naturalmente noi puntiamo sul fatto che Gorizia sia una città turistica, una città di cultura, grandi eventi insieme con i tradizionali ma anche grandi eventi insieme agli amici di altre confine, mi riferisco alla Slovenia, mi riferisco anche a altre confine di Schempeter e Vertoiba. Con loro candideremo le nostre città capitali d'Europa del 2025 e con loro candideremo le nostre città capitali dello sport del 2020. In un problema basato sulla continuità ha senso parlare dei primi 100 giorni ipotetici, su cosa puntare in particolare? Io credo di no, nel senso che siano 100, che siano 150, 200, io ho sempre imputato alla Giunta di Saracchiani la responsabilità di voler correre, cioè puntare sulla velocità e non sulla quantità. Io credo che correndo uno rischia di schiantarsi, perciò per me non saranno dei 100 giorni, per me sarebbe il problema di mantenere tutte le promesse entro il mio primo mandato. Noi abbiamo promesso solamente ciò che saremo in grado di realizzare, perciò che siano 100 giorni, che siano 120, è indubbio che faremo in fretta per un motivo molto semplice, non per i 100 giorni, ma perché i cittadini hanno bisogno di risposte più in fretta possibile. È detto tra noi, io ho già iniziato a lavorare prima di essere eletto sindaco. Da 100 giorni a 15 secondi il tempo di uno slogan? Lo slogan è uno solo, noi chiediamo di dare un giudizio alla Giunta Romoli degli ultimi 10 anni e di investire in termini di fiducia su di noi per i prossimi 10. Roberto Collini, queste elezioni con quattro liste che la appoggiano? Sì, innanzitutto c'è una lista civica, quella che ha dato origine alla mia candidatura e percorsi goriziani. A questa si è agganciata subito un'altra lista che è quella della Mara Cerniz, Gorizia 100 Sogni e che comprende anche alcuni esponenti dell'Unione Slovena che è il più antico partito rimasto altmai dalla Prima Repubblica e poi abbiamo Gorizia e tua e il Partito Democratico che ha appoggiato convintamente questa iniziativa. Una Gorizia da cambiare o da continuare? Con il nostro motto, buongiorno Gorizia, è una Gorizia certamente da risvegliare, se un altro perché è una Gorizia che si è chiusa molto in se stessa in questi anni, una Gorizia che ha perso moltissime persone, un migliaio di persone in meno, quindi un decremento demografico, una crisi economica molto invasiva con 400 serrande che hanno chiuso, andate a vedere quello che era una volta il centro storico, la Via dei Signori, è una Gorizia che ha bisogno però di recuperare se stessa la propria funzione, la propria vocazione costruita su quello che era un confine una volta e che dovrà essere un'opportunità per il futuro. Altri temi importanti? Altri temi importanti l'università perché noi abbiamo ormai l'industria tradizionale se n'è andata, quella che era la manufatturiera, il tessile di una volta del secolo scorso con oltre 5.000 persone impegnate se n'è andata, quindi abbiamo investito, dobbiamo investire sulla cultura e quindi il discorso universitario per noi è importante. Ci sono due università, quella di Trieste e quella di Udine che hanno creato diversi corsi qui a Gorizia, chiediamo però un aumento di questa presenza attraverso un'individuazione di specifiche competenze universitarie in questa realtà. I suoi ipotetici primi 100 giorni dove si pigerebbe sull'acceleratore? Sull'acceleratore e soprattutto sulle regole, sulla trasparenza, sulla necessità di rimotivare anche la gente, sulla necessità soprattutto di istituire un welfare di comunità che sia effettivo e non fittizio, sulla necessità di ragionare insieme alle periferie e quando parlo di periferie non intendo soltanto le periferie in termini geografici ma anche periferie della società su quelli che sono le effettive necessità, gli effettivi bisogni. In 15 secondi uno slogan, perché votare Roberto Collini? Perché dobbiamo cambiare la città, voltare pagina come l'abbiamo detto ripetutamente. Federico Portelli, sostenuto dalle liste Gorizie e Borghi, sono liste critiche rispetto all'attuale amministrazione. Sono liste civiche nate da un ascolto che è durato mesi e che noi abbiamo costruito fin da ottobre del 2016. La lista Borghi è una risposta concreta alla soppressione delle circoscrizioni dei quartieri qui in città. Da cinque anni i quartieri non esistono più e gli elettori non hanno più la possibilità quindi di individuare i loro rappresentanti sul territorio. Quella lista, quindi la lista Borghi, serve a dare voce ai quartieri, quindi candidati in consiglio comunale e rappresentativi delle periferie. L'altra lista, la lista civica Gorizie, si caratterizza invece per i temi più generali che riguardano il futuro amministrativo che ne vorremmo di discontinuità reale nei prossimi cinque anni. Gorizia esce da un periodo di crisi e noi non siamo rassegnati al declino della città e abbiamo costruito con le persone, come dicevo nei mesi scorsi, un percorso partecipativo. Abbiamo un programma composto su otto dossier, abbiamo approfondito le risposte ai bisogni che sono stati segnalati dai cittadini, abbiamo costruito con degli esperti le soluzioni che poi sono confluite tequante nel programma amministrativo. In questo caso i temi su cui ci siamo concentrati è la priorità da dare al lavoro, quindi gli strumenti che il Comune può utilizzare per generare posti di lavoro. Il secondo tema che abbiamo sviluppato è legato all'urbanistica che va totalmente ripensata e ai temi ambientali. Il terzo tema è il commercio, le serrande abbassate in questi anni sono centinaia, noi vogliamo rialzarle con una serie di incentivi e di azioni concrete che abbiamo elaborato con i commercianti stessi. Il quarto tema che abbiamo sviluppato è quello della cultura e del turismo, che è un'occasione di sviluppo non espresso completamente oggi dalla città. Il quinto tema è l'assistenza e il welfare che vanno totalmente rifondati, il welfare comunale è figlio degli anni 80 quando le risposte si potevano dare in un certo modo. Oggi le situazioni di disagio che noi sperimentiamo purtroppo e parlando con i cittadini ce ne siamo accorti, richiedono una rifondazione completa dell'assistenza comunale. Ultimo tema invece le priorità che i borghi e i quartieri hanno dato per i prossimi cinque anni al nostro progetto. In 30 secondi può anche, oltre a aver specificato tutti questi temi, sentizzare perché votare per voi, perché scegliere? Noi siamo un reale percorso civico e il metodo che abbiamo utilizzato è già in questo senso un cambiamento che la città si attendeva e che i cittadini si attendono. I partiti non riescono più a intercettare le istanze dei cittadini. Noi ci siamo smarcati completamente da questa logica, abbiamo al nostro interno persone che la vedono in termini diversi per quanto riguarda il futuro del mondo, si direbbe in caratteri ideologici, però sulla città noi abbiamo costruito una sintesi che è fatta dai punti di vista della destra, del centro e della sinistra. È una risposta puramente civica. Grazie.